Lui è Beko Bagnaia, un fenomeno sulla moto. Un po' meno con il pallone. Ma proprio quel pallone gli farà conoscere un altro campione del mondo, Fabio Cannavaro. E insieme condivideranno la passione per il calcio. Non restare indietro, con Team Vision Calcio e Sport puoi avere Tazone con tutta la serie A-Team e Infinity Plus con la UEFA Champions League a 19,99€ al mese per tutto il 2023. E agosto lo offre Team. Vivi tutto al massimo con la fibra di Team. Corri nei negozi. Team, la forza delle connessioni. Grazie a tutti.